in alto a destra per la gloria della community per la gloria della razza terran per il team decima lui è in basso a sinistra invece investe protos a sorpresa un bel pvt vediamo un po se riuscirà a vincere tranquillamente anche questo abbiamo si troverà più difficoltà abbiamo signore e signori reyno tranquillamente non lo so secondo in qualche momento reynor ci ha pensato ho fatto la cappella e cappella diciamo che non è esattamente un termine utilizzato a caso ma detto questo sottovalutato non lo so andiamo a concentrarci un attimo sul game e soprattutto vediamo visto che ora l'approccio al contrario nel senso che riti il protos vediamo come lui è solito approcciare questo matchup per ora un probe scout un gate un gas tutto normalissimo si tutto normalissimo le cose storte non ci piacciono bugia bugie enorme piacciono a tutti le cose storte a chi è che come è classico fare anch'io quelle poche volte che gioco a terra non succedono queste cose però eccolo lì l'escd che fa sentire il trapano e anche trapano non è un altro termine utilizzato a caso immagino oddio in realtà effettivamente è un trapano non è un trapano scusa porta pazienza non so se dopo tu quando comunichi con una donzella non so se ti approcci sempre facendogli o parlandogli del trapano però però l'altro giorno stavo giocando ai rose of the storm e in team avevo un tipo che si chiamava trivella tope ecco secondo me quello dell'scv è un trivella tope guardalo sì ma di nickname affascinanti ne abbiamo sempre sentiti attenzione comunque posizione interessantissima della probe spettacolo il reaper passa non vede la probe vediamo che questa probe andrà subito a dar fastidio al buon pippins marine però fa sentire subito chi comanda guardala lì l'amico uno gli fa sentire il trapano l'altro gli fa sentire il fucile che fa i momenti reaper qua che ballonzola un po' in realtà adesso ha un po' di spazio di manovra per entrare magari portarsi a casa una probe l'adepta è ancora in produzione l'altra adepta si sta facendo un lungo viaggio verso la base di pippins qua dodgia il pool delle probe si porta a casa una probe bravo qua il giocatore del team decima che però ora deve fare i conti con questa adepta attenzione giusto in tempo incredibile però questo è il disastro questo non doveva succedere no attenzione tutto sommato è andata anche abbastanza bene anche perché questo pressing è arrivato veloce cioè nel senso è arrivata subito anche l'adept continua a fare adept twilight robo le scelte tecnologiche per il buon ricky che adesso ha ancora una volta prova con questa adepta ad entrare era quasi ingolosito da quell'SCV ci ripensa all'ultimo mentre vediamo arrivare una elion per pippins una sola forse anche uno scout device vediamo se sarà così e attenzione che monello non ne nascondero lascia lì bello coccoloso fra le altre strutture vediamo se riuscirà a percepirlo di buon pippins anche perché ne parlavo oggi in streaming questa build qua che è nata per essere utilizzata contro Zerg in realtà è estremamente potente anche contro Terran però questo scout di pippins perfetto impeccabile bravissimo qua pippins con questa elion vediamo se riesce a portarsi a casa qualcosa no non si porta a casa niente però si si porta a casa una probe una probe e uno scout che può essere veramente interessante a questo punto non deve prendersi danni qua pippins sa che arriverà prima o poi un drop di t vediamo come resirà interessante perché per ora Raynor ha comunque deciso di far completare Darkshine sta arrivando un Raven dall'altra parte soltanto due gate e non quattro quindi una variante più macro-oriented e un terzo Nexus in arrivo per il giocatore di casa Clash che adesso addirittura recolla le adepte in quanto ha visto arrivare quel drop occhi dovunque per Ricky non c'è però effettivamente contro Area questa Medivac può fare un po' quello che vuole dall'altra parte sono in arrivo i primi due ditti viene droppata scende la mina no non esplode perché comunque l'Obs era pronto non che tifo pippins ci mancherebbe però un po' di beh dai siamo tutti un po' bimbi di pippins ma si dai tifiamo per la community stasera a sto punto tutti contro Raynor facciamolo così vediamo con un arconte cosa riuscirà a fare anche perché c'è una mina lì deve stare attento qua tifiamo sempre per lui per una volta possiamo anche tifare ecco vede la mina eccolo lì me l'aspettavo questa si un po' come faccio io che schifo allora un po' come faccio io ora io ti voglio bene Manny ma non ci ti dico beh guarda ogni tanto regalo gioie ma non ma non la maggior parte delle volte andiamo a rivedere mi sarei aspettato di più il un po' come faccio io quando ho recollato le tre adepte quello si che schifo non parlarmi di recolle vabbè comunque tra recolle e arconti droppati qua Raynor già con la terza tutto inizia a prendere quote ragazzo ha fatto sta mettendo continuamente pressione con questo singolo arconte vediamo se Pippins ne uscirà un po' più cattivo inizierà ad aggredire ancora di più dopo quel drop di mine ma qua Raynor con questo prisma continua a dar fastidio sì Pippins si tiene sulla difensiva e mi piace in realtà nel senso che comunque non ha nulla da temere soprattutto dopo l'upgrade dei ghost da un eventuale late game contro l'avversario certo è che magari Raynor vuoi provare a batterlo anche con qualche trucco del tuo matchup considerato che lui sta giocando a phrase e quindi magari è abituato un po' meno con le porterie da ladder eccetera eccetera ma l'approccio di Pippins in questo caso è stato completamente onesto sta giocando una partita perfetta sotto il punto di vista difensivo e molto macro-oriented stessa cosa in realtà sta facendo poi il suo avversario per ora solo un po' di light pressure mi incuriosisce la comp del giocatore Clash perché sta andando di immortali non è una cosa che si vede spesso in questo mortali un misto un fritto misto sì poi ci sono gli zelotti ci sono gli arconti lo splash damage c'è tutto nel senso che comunque gli arconti però mi pare una comp che soffre molto dai ghost quindi bisogna vedere se Pippins lo percepisce tanto questo observer qua che tutto sai tutto vede mi sa se l'ha visto anche Pippins sì dovrebbe averlo visto forse no lo sposta giusto in tempo per urtare i nervi a tutti e non essere quello che capita anche a me tanto attenzione altri due arconti pronti però c'è una mina una mina però non basta esatto solo una mina è poco può mettere un po' ansia però dai sì più che altro magari Ricky decide di tornare indietro aspettandosi altre difese all'interno della base oltre la mina poi c'è anche Raven che può fare belle pulinate ci sono unità ovunque nella mappa che stanno morendo guarda la mia mappa si si sto guardando si sembra di vedere uno zerg a sto punto veramente si muove in avanti qua Pippins lo sente ma non lo vede se lo aspetta probabilmente attenzione prontissimo prontissimo mamma mia giocatona Pippins eh sì questa sì questa indubbiamente una giocatona si porta a casa un prisma con all'interno due arconti e a questo punto l'attacco di Ricky potrebbe considerarsi concluso vediamo se vuole provare ad insistere ma con tutti questi tank e queste mine anche col supporto del Raven difficile che Reynor voglia provare ad attaccare arterialmente arriva nel frattempo il misto antiarmatura e qua fa malissimo Pippins e spinge Pippins spinge vediamo un po' se continuerà a cacciare Reynor nella sua zona però dall'altra parte attenzione sta arrivando un run by di Chargelot probabilmente qua si porta a casa qualcosa continua a droppare potentissimo qua come al solito se non ci sono i Ling ci sono i Chargelot non so cosa sia meglio in ogni caso però qua si porta a casa un sacco di cose micro trepitosa da parte di Reynor qua Rikki l'ha praticamente vinta di micro questa cosa perché aveva un quarto dell'armata ma ha tenuto vivi quegli immortali e quegli arconti imbarazzante aiutinante ragazzi imbarazzante quando esce il colpo di classe sembra quasi che spinga sull'acceleratore nei momenti in cui è in difficoltà e poi torni su una velocità normale mi dà quasi questa impressione vedendo il game assolutamente lo dicevamo poi anche in sede di cast quando l'abbiamo visto all'Inter Extreme Masters Katowice quando è in difficoltà che tira fuori gli artigli che mostra il top della sua performance e l'abbiamo visto poco fa con quel prisma ed ecco i DT per vincere queste partite si vedono li vede li vede si li vede assolutamente vediamo adesso si muoverà ancora con Raven vuole giocare un po' anche lui con quei DT con i Colossi si deve un po' divertire con questi trirucchetti da prossimo se devo dire una cosa però quell'Obs sta dando veramente una grossa mano a Reynold perché riesce a vedere sempre come è posizionato il suo avversario cioè vede poco ma ha una grossa impressione di come si sta muovendo lui comunque vede poco ma vede il disco e beh soprattutto uno del suo calibro è veramente interessante come è posizionato lì peccato che non lo vede più anche perché è lì da tre ore con Raven che gira incredibile adesso col comando oh attenzione va bene ok allora la guffata clamorosa no niente lascia andare è un dio buono Pimpin merciful god vede la finta espansione dell'avversario qua vorrebbe espandersi ma c'è un tirannoso Zelota pronto ad impedirglielo spingi ancora più avanti in game e ora ci sono quattro colossi sul campo di battaglia non essere tantini non vedo neanche troppe non vedo neanche viking da parte di però ci sono i ghost che iniziano a arrivare questo attacco però ragazzi sarà veramente difficile da fermare pesantissimo difficoltà per no non perde il cc davvero di poco eh ma qua lo vede muoversi lo trova fuori posizione probabilmente le mine si spostano in avanti deve stare attenti un sandwich di quelli potentissimi attenzione esplodono le mine esplode tutto le mine hanno fatto un ottimo lavoro adesso in realtà Ricky non ha tanta carne al fuoco davanti a questi colossi ma ha un prisma e sembra bastardi in realtà incredibile con un prisma ha fatto un disastro sto ragazzo GG mamma mia grazie a tutti